ciao a tutti dream like moon vi da il benvenuto al nuovo episodio della not so berry challenge siamo tornati nella nostra casa di vacanza dopo l'episodio scorso in cui abbiamo visto i nostri viola e rafael riprendere i rapporti grazie anche al festival del litiglio ma soprattutto a questa vacanza inaspettata e no rafael non può essere ammalato proprio adesso insomma sono tornati a casa le bambine stanno qua hanno detto restate dentro voi che io e papà dobbiamo parlare e restate fuori più che dentro e loro sì lei sta facendo finta di andare a cavallo chiaramente questa non è una bici per lei in questo momento no no è il suo cavallo e camilla idem dai che più impariamo ad andare in bicicletta e meglio saremo capaci di cavalcare da grandi certo l'importante è crederci che funzioni proprio così allora vieni qua siediti e io dire che il tesoro per favore non usare al momento siediti anche tu anzi vieni proprio qua a sussurrare parole dolci ecco per forza dove non sta in piedi vabbè fate come volete l'importante è che facciate che brutta roba proprio eh allora che ne pensi di insomma portare a un altro livello questa serata romantica ah sì scusa ma c'è mia madre che chiede come sta andando la vacanza ma tu non avevi il telefono viola eh sì appunto perché non è no non trasformare non far nulla perché non è viola sto telefono vabbè lasciamo stare ah perché io lo vedo viola scusate dopo anni ancora non so giocare a The Sims ma per caso non ti è piaciuta la rosa che ti ho regalato prima ma no mi è piaciuta tantissimo gli hai regalato una rosa no che non te l'ha regalata però insomma sai non mi è arrivata ma probabilmente meglio così sai dopo una giornata intera sarebbe stata sguelcita e tu non saresti più riuscita a guardarti allo specchio oh sei radiosa come un raggio di sole questi vanno avanti a parlare chiedi della vita sentimentale e manteniamo un tono leggero rafael ha gradevolmente parlato del più e del meno con viola quanto basta da indurla considerare che a volte vale la pena di apprezzare le cose più semplici della vita anche le conversazioni essenziali e poco profonde possono essere belle si può dire che viola apprezza l'ordinario e gradisce parlare del più e del meno sì va bene con lui almeno sì allora portiamo questa serata un altro livello ma che tipo di livello intendi fa una posa sì e romantico affetto chiede di diventare la fidanzata manda un bacio dove stai andando e lei ha fame va bene allora e vi occuperete un po dei vostri bisogni e poi magari vediamo se riusciamo a usi guarda il lato positivo rafael per una volta può guardare il lato positivo della vita e poi diciamo che possiamo vedere se riusciamo a portare questa serata su un altro livello se sapete cosa intendo sì brava pulisci lavati anche le mani le bambine qua sono super a disagio però tanto vabbè mamma e papà andranno di sopra per cui basta bambine basta basta tu vorresti mangiare uno spuntino ovviamente allora vieni qua fai un pasto veloce ti prendi a quest'ora del latte magari anche tu sei fame no tu non hai fame allora niente vieni semplicemente qui anzi vai a letto diretta proprio dormi e chiacchiera con rafael allora lo prendiamo questo caffè insieme ma che caffè viola non hai ben capito infatti ci penserà lui a spiegarti cosa intendeva per portare su un altro livello l'intimità fisica bacia e mamma e papà si stanno baciando tutto bene voi è più che bene direi e perché sei giocoso vabbè no sempre su di lui e magari intimità fisica e figlio no vi avverto basta figli me l'avete già chiesto basta fai fichi fichi non c'è più quello normale o ecco fai fichi fichi ciao mamma ciao papà ho famissima mamma e papà sono impegnati a fare altro ho ingrandito un po l'interfaccia utente spero che la cosa vi faccia piacere e quindi sì i nostri stanno andando a godersi un po di fichi fichi insomma per riappacificarsi ecco il fichi fichi riappacificatore per cui lasciamoli stare alla loro intimità e io direi che se lei ce la fa è stanchissima come mai se lei ce la fa direi che va a dormire dormi e ci vediamo magari domani perché sospetto che le bambine vorranno tornare al ranch o comunque divertirsi con il loro nuovo amico tra virgolette anche se è un po più grandino di loro e raffael si è svegliato canterino vabbè meglio così vuol dire che è passata una buona nottata comunque lui chiaramente deve andare al corso di aggiornamento che gli hanno proposto al lavoro e che è il motivo vi ricordo per cui siamo qui ma è anche la festa dell'estate per cui oggi se riusciamo ci dedichiamo al barbecue e al divertimento acquatico se trovo qualcosa insomma di consono si vai a fare colazione viola svegliati anche tu che oggi ci aspetta una giornata bella lunga allora fai una doccia veloce e una giornata lunga dedicata alla famiglia una famiglia che si è riunita dopo un periodo davvero molto brutto durato anche anni altro che un periodo quindi ambra si sta facendo una doccia sta andando a fare colazione camilla si è svegliata proprio ora vieni qui a usare il gabinetto fatti una doccia poi farà colazione prendi gli avanzi e anche viola vabbè viola sembra stare bene in realtà non sembra avere fame schiena dolorante per il letto economico mi spiace vabbè rafael proprio cambiati abito che oggi mi sa che farà un caldo micidiale ecco mettiti qualcosa di un po più consono grazie e lui deve andare appunto a questo corso di aggiornamento che alle sette e mezza stamattina di domenica poveracci quelli che stanno partecipando a questo corso vediamo come sempre di trovare la bacheca introvabile e come lavoretto comunitario facciamo sempre a destra il cavallo di un vicino perfetto allora la giornata può iniziare io direi che saltiamo subito alla parte interessante perché viola stai ballando anche tu sei piuttosto allegra stamattina ma hai finito di farla vabbè fa una doccia di nuovo e magari vediamo se qualche locale della zona ha approntato qualcosa per fare il barbecue il divertimento acquatico viola ha avuto un'illuminazione benissimo buon per lei vestiti anche tu tesoro con degli abiti per questa stagione e magari andrai fuori ad allenarti un altro po mentre tua madre e tua sorella si preparano per cui esercitati ancora ad andare in bicicletta ecco la nostra camilla che viene qua a mangiare hanno entrambe dei braccialetti dell'amicizia nell'inventario e erano intenzionate a scambiarsi proprio durante questa vacanza però sì in effetti potresti mangiare qualcosina anche tu però fai un pasto veloce dato che qua possiamo farlo e anche per lei facciamo del latte e le nostre danneberry sono al parco per la festa dell'estate c'è anche willow appunto ambra gli ha chiesto se voleva unirsi però è molto teso ha cercato di rallegrarlo però non c'è stato nulla da fare discuti dell'umore stressato mentre camilla va a riempire di gavettoni questo secchio che è magicamente comparso e anche viola andrà lì ovviamente camilla e ambra sono vestite con lo stesso abito scusa ma abbiamo una berri qui berrettino in piena estate va bene voi dove siete andati a sita ancora qui benissimo non ci interessa avere altra gente nella nostra conversazione grazie quindi adesso lui è fiducioso benissimo e lei vuole diventare amica di willow per cui racconta una barzelletta sull'albero di natale e poi secondo me viola chiama tutti quanti a disputare una lotta con i gavettoni per cui ah c'è ivy qua tra parentesi ivy ha partorito nelle notte quindi forse per quello che willow è un po teso però non conosce willow quindi oh ma che carine ma sono troppo belle queste due poi sono proprio vestite con i vestitini in quelli insomma belli da estate disputa tu una lotta con i gavettoni con tutti quanti nell'attesa che papa rientri dal dal corso di aggiornamento sì l'è ancora flirtante dopo la nottata ok e vediamo scusa tu te ne devi andare dov'è il nostro willow dov'è finito willow ah no eccolo qua perfetto vabbè tu vestito così proprio oh non l'ho beccata ah tieni questo ragazzo di cui non conosco il nome dopo mezz'ora è arrivato quel gavettone vabbè c'è pure il mercato delle pulci chiunque tu sia mamma delle bambine sei una vera schiappa ferme 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 siete vicine bellissime voglio farvi una foto stupende troppo belle per non prendere questa occasione allora vai su con questi gavettoni ecco lei cerca di prendere sua sorella per fare colpo secondo me su willow però non c'è riuscita infatti adesso willow la prende in giro ah sì allora ecco a te ragazzo di cui non conosco il nome vai camilla fai vedere le berry amori amori miei fai vedere le berry squadra berry all'attacco tesorissime come si fa a non amarle va che ti è arrivato vicino è quello camilla io te lo dico che è successo ha iniziato pure il festival della gioventù ale ci sono 2000 festival oggi non si può dire che manchino le attività da fare vabbè dai è piena estate willow non te la prendere chiaramente gli ho rifatto un po il look l'ho immaginato un look con un look stile insomma da da ranch ecco poi vabbè aveva il trucco praticamente per qualsiasi cosa e vedete lei come presa da questo ragazzo è l'unico a cui non sente di voler fare dispetti ma è affascinata in altro modo allora smettete un attimo con questi gavettoni e concentriamoci sulla loro amicizia magari tu viola puoi andare qui a preparare qualcosa da mangiare per cui griglia facciamo chili delle tre sorelle dato che ci siamo o facciamo più un panino più una cosa da appunto da da grigliata estiva piatto di costoletta al barbecue facciamo questo piatto di costoletta al barbecue suona bene e mentre no no tu non parli con tua sorella tua sorella invece può venire qua socializzare con questi bambini ma c'è questo è un berry e toby toby presentazione amichevole qui avremo un'altra berry me lo sento no è ollie dai è cresciuta adesso praticamente allora gioca con ollie dato che la conosci già anche lei è cresciuta nella notte proprio è capitato tutta questa notte mentre tu in realtà stavo dicendo a te no non stavo dicendo a te e tu vieni qua e parli con il tuo aspirante amico willow prenditi gioco degli adulti per adesso stai diventando grande anche tu quando diventerai adulto non sarai più così così simpatico canta della festività dell'estate e cavalcherai la ma anziché i cavalli beta sicuro di no anzi sarò io a insegnarti a cavalcare un bello stallone come come il mio come si chiama non mi ricordo più come si chiama loro cavallo si che è stato il protagonista di un'intera serie vabbè sostieni che willow è un alieno no 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 si può dire di tutto di lui tranne che sia un alieno proprio buffo comportamento frivolo è la scema tu camilla stai stai ancora giocando ai gavettoni non sei venuta qui a conoscere un po vieni qua a parlare con racconta una storia sciocca a parlare con ollie con la sorella di willow rallegra poi qui abbiamo abbiamo detto no non c'entra niente con noi acquisita l'abilità 9 di canto ambra a no l'abilità di canto io non so perché ho letto 9 da qualche parte viola si accorta che la programmazione fa per lei vuole coltivare questa passione più spesso ok a rafael è tornato perché lascia l'anticipo no non è non è tornato vabbè e lei si mette qua a suonare la chitarra benissimo sta facendo sentire insomma la popolazione locale che lei ha una certa dote anche se nessuno da tranne a cantare tua madre era brava a cantare anzi lo è ancora chi è che ti sta guardando ti da pure la mancia sulla strada verso la fama la fama chiunque tu sia grazie basta ha deciso che anche basta grazie di graziarci stefano rada mi spiace ma ha destratto il cavallo di un vicino perfetto allora porta qui rafael e vediamo le bambine hanno fame no assolutamente no sono prese con tutt'altro lei è proprio attratta da questi gavettoni non riesce a farne meno tu dove stai andando è arrivato papà sta andando a chiedere un consiglio papà papà non vedevo l'ora che tu tornassi voglio chiederti ma senti un po a scuola farà finta in realtà secondo me ha litigato per un vuoto mostro con will o ho litigato con qualcuno parlando di quale fosse il vuoto mostro più potente vabbè sono tutti e due potenti dipende da quanto li alleni tesoro non c'entra niente ok grazie sì secondo me will o è sparito tu camilla cioè hai la calamita verso i gavettoni non ho capito non so dove è andato will o probabilmente no eccolo qua dai restiamo un po appiccicati a lui entusiasmati per la comicità insomma lo sta stressando secondo me racconta una storia sciocca sì che hanno interagito un bel po ma eppure pensieri profondi no interessi discutire gli interessi potresti anche imparare a conoscerlo giusto per capire com'è per cui chiacchiere impara a conoscere non c'è impara a conoscere sì non vanno tanto d'accordo però eh nonostante tutto le loro interazioni non sono proprio felici al cento per cento e tu un giorno cavalcherai un dinosauro anzi sarò io a cavalcarlo sarò più brava di te e tu potrai solo guardarmi e sentirti un pagliaccio ecco di di cosa state parlando di nulla che ti interessi ecco diglielo anche tu noi senti dobbiamo proprio far la guerra è certo lei sta ascoltando ma non ci sta capendo niente raggiunto il livello 9 dell'abilità sociale willow è smanettone ok ok e tu stai aspettando chiacchiere con viola ma che profumino hai preparato tu beh sì certo preparato io secondo me viene qua e le manda un bacio per cui affetto sussurra smanceria non puoi semplicemente mandarle un bacio no flirt manda un bacio ecco e flirt di nuovo complimentati per l'aspetto sei bellissima oggi viola veramente devo indossare un paio di occhiali da sole perché abbagli con la tua bellezza se questo non è un lecca fondoschiena non sa cosa sia per cui bacio soave no addirittura e perché secondo me raffael è anche felice per un motivo molto preciso sei tesoro e scusami se ti chiamo tesoro però mi sento proprio di dirti tesoro sai perché oggi al corso ed aggiornamento mi hanno dato la conferma la conferma sì sei per quel posto di cui ti parlavo insomma che insomma per cui servivano qualità molto specifiche e era un test in realtà questo corso d'aggiornamento ma dai che bello e ti hanno offerto un posto sì finalmente potrò lavorare negli uffici per la ditta insomma quella per cui ho sempre lavorato per cui il cantiere in cava lei oh ma che bello è meraviglioso eh sì proprio così infatti adesso rafael potrà lasciare il suo lavoro da da bagnino e confermerà quel posto che gli hanno offerto agli uffici del posto dove appunto ha sempre fatto il lavoratore manuale fino ad ora per cui lascia quel posto ma soprattutto cerca un lavoro e in realtà non è che lo cerca gli hanno già offerto e sai con i soldi che guadagneremo quante cose potremo fare no ma è meraviglioso davvero sono contenta per te felicissima anzi te lo sei guadagnato eh sì infatti adesso rafael diventerà non un lavoratore salariato non è non era quello che cercava un bensì uomo ecco sì uomo d'affari come tecnico dell'ufficio postale d'altronde da qualche parte bisogna pur partire però pur sempre negli uffici dell'azienda per cui stava lavorando per cui sinergia efficienza proattività se il semplice suono di questi termini alla moda del settore accende il tuo entusiasmo una carriera affaristica potrebbe fare il caso tuo rami della carriera direttore gestionale e investitore vabbè io l'immagino direttore gestionale per cui si abbandoniamo il posto come falciatore di prati la vacanza sta per finire e lo so quando esattamente un solo giorno vabbè noi stasera torniamo a casa per cui va benissimo così allora concentriamoci affinché questa faccenda questa vicenda vada a finire bene e lui si viola anche perché volevo dirti un'altra cosa chiedi di diventare la fidanzata ti va se torniamo insieme quindi possiamo ufficialmente dire che stiamo insieme ma certo allora facciamoci un selfie e mandiamolo a tutte le nostre famiglie il telefono letteralmente sotto sopra se questo è il vostro modo di farvi selfie ok ma vabbè manderanno questo selfie alla famiglia dicendo ragazzi ottime notizie eh sì volete far morire d'infarto qualche anziano in famiglia vabbè loro stanno ascolta la storia buffa cosa state facendo ma attacchionate stanno facendo loro va bene c'è star bright con giune per grove vabbè bambine giusto per non lasciare qui queste costolette venite a mangiare sono anche le 15 e 33 vorrei dire no non preparare bevande vieni qua prendi una porzione anche tu prendi una porzione tutti quanti prendete una porzione e io direi che insomma questa vacanza può anche terminare sotto i migliori auspici no a lui manca il divertimento acquatico ma poi potremmo fare una una partitina tutti assieme magari lei però viola si esibirà si esibirà qua con la chitarra per gli abitanti del posto dato che sta cominciando ad acquisire la fama che non ha mai voluto ma vabbè adesso sì perché ha capito che la sua vita è no non ha non ha fama ancora comunque ha capito che la sua vita è fatta per la musica masami è bello sentire la tua voce viola volevo chiederti se dovrei approfondire la conoscenza di evie smith sai in amicizia sì è una brava persona te lo posso assicurare io personalmente viola no perché c'è scambiato due parole però io la conosco molto bene e anche tutti voi che avete seguito la mia serie vita nel ranch potete confermare che ai vi è una gran brava persona per cui sì credo che dovresti provarci ambra è sparita è andata dentro a fare la sociale va bene perfetto laura luna che rabbia ragazza tu e willow potete davvero fare una bella coppia vabbè io direi che possiamo anche terminare qua questo episodio però prima vorrei portare loro a casa perché c'è una cosa che voglio mostrarvi eccoci tornati a casa dopo aver fatto i bagagli eh sì raffael in realtà cerca di calmarsi allo specchio perché quello che non ha raccontato a viola è che in realtà quel lavoro è solo una copertura una copertura per qualcosa di molto 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 losco e ed è una cosa insomma che in cui raffael si è trovato invischiato e non sa proprio come come farà eh sì non c'è nulla di sporco per cui non lamentarti l'unica cosa sporca è la tua coscienza al momento ehm allora carriera no non lascia il lavoro vabbè scrivi esercitati a scrivere fai una cosa a caso cos'è che dobbiamo fare compilare ah ecco compila rapporti benissimo ehm sì perché non è esattamente cos'è com'è che si fa per compilare rapporti sapete che non ne ho idea per un motivo che non ho capito era sotto internet vabbè compila rapporti eh sì perché una cosa che raffael non sapeva ma si è trovato invischiato in questa situazione è che il lavoro che stavano offrendo a queste persone è tutt'altro che un lavoro onesto e pulito però raffael non voleva deludere viola e anzi forse è la sua possibilità di riscatto ma dovrà stare molto molto attento e su questa nota io vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo episodio spero che vi sia piaciuto comunque qualcosa di positivo è accaduto raffael e viola si sono rivicinati anche se il futuro è ancora incerto ma vabbè vedremo come andrà avanti certo che raffael si fica sempre in certe situazioni vabbè dunque vi invito a restare fino alla fine del video dove potete scoprire tramite le miniature interattive nuovi contenuti sul mio canale che vi invito a guardare vi ringrazio tantissimo spero che questo episodio vi sia piaciuto iscrivetevi se siete nuovi attivate la campanella vi ricordo che in descrizione trovate il link a tutte le mie serie ai social e ai canali dei amici youtuber per cui detto questo io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione noi ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda stupenda giornata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao 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 ciao